Bella a tutti ragazzi qua Orgasmi che sono qui a portarvi un nuovo episodio della serie My Top 5 Abbiamo portato i portieri settimana scorsa Oggi vi porto i difensori centrali, solo i difensori centrali, senza considerare i terzini Come invece avevo detto nello scorso video Perché i terzini li farò sia destri che sinistri insieme in un prossimo video Il terzo episodio penso che sarà Poi farò un altro episodio sui centrocampisti Difensivi centrali e offensivi tutti insieme Un video sugli attaccanti e un video sugli esterni più le ali insieme Quindi direi di partire subito Non considererò giocatori con valore 85 o più di overall Perché ovviamente quelli sì sono forti E secondo me poi ci sarebbero troppi giocatori da mettere in queste classifiche Quindi dai giocatori 84 o inferiore Quindi partiamo subito con il quinto nella mia classifica Dei giocatori difensori centrali È un difensore della Premier League I difensori della Premier League sono quasi tutti forti Ma lui in particolare mi è piaciuto tantissimo quest'anno Stiamo parlando di Kurt Zuma del Chelsea Argentone non raro ma che sembra veramente fortissimo Forse questo giocatore quest'anno avrebbe meritato magari un upgrade Ha giocato alcune buonissime partite con il Chelsea quest'anno Quindi magari un upgrade ci poteva stare ad oro Però in ogni caso troviamo questa carta veramente spettacolare Con una velocità di 74 Molto molto buona per un giocatore comunque della sua stazia Del suo fisico E valori poi i più importanti per un difensore centrale Difesa e fisico molto alti Di fianco trovate a destra piede debole e mosse abilità E a sinistra invece le sue statistiche secondo me migliori Tra cui spiccano un 85 di forza fisica potentissima Molto veloce ottimo nei contrasti E forte di testa con un ottimo salto Quindi spostiamoci invece sul giocatore in quarta posizione Ci spostiamo questa volta in Bundesliga Stiamo parlando di Naldo Uno dei miei difensori preferiti Forse il mio difensore preferito della Bundesliga Senza considerare ovviamente i vari Boateng eccetera eccetera Naldo mi è piaciuto tantissimo quest'anno Sia la sua versione, la prima versione che se non sbaglio era di 80 di overall Poi questa versione upgrade Penso che oltre al fatto che comunque quest'anno in real life ha fatto tanti gol Ha disputato grandissime partite E' molto forte anche su FIFA Lo dimostrano le sue statistiche Molto veloce Abbastanza veloce comunque per essere un giocatore che è tipo alto 2 metri Qualcosa Fortissimo in difesa Fisico 75 Non so da cosa derivi col 75 In realtà lui ha 85 di forza fisica Quindi quel 75 dovrebbe essere qualcosa di più alto A sinistra vediamo le sue statistiche migliori Velocità scato di 78 Che è più della sua velocità sulla carta 85 di contrasto Anche un'ottima scivolata E' fortissimo di testa Anche se non ha un salto molto alto Ma lui è altissimo Le prende comunque tutte Potenza tiro 92 Infatti nei tiri dalla distanza E' veramente fortissimo Io ho fatto un sacco di tiri con lui E anche diversi gol E soprattutto come ho detto prima L'85 di forza fisica L'unica cosa negativa secondo me di questo giocatore E' che poi negativa tra virgolette Il suo work rate Perché ha work ed attacco alto Quindi si spinge sempre un po' all'offensiva Però comunque sia Non tantissimo Ecco non si sente veramente tanto questa cosa Ma l'ho detto più e più volte Nei vari squad builder in cui l'ho trattato Comunque andiamo sul podio Troviamo come bronzo Come medaglia di bronzo Un altro giocatore oro Ci spostiamo in serie alta Terza posizione C'è Giorgione Nazionale Chiellini Che secondo me è uno dei migliori del gioco Appunto Ecco perché sta in questa serie Perché ha delle statistiche veramente altissime Anche se forse in game non dimostra Proprio quelle statistiche Forse qualcosa di meno Però comunque sempre Resta fortissimo 84 di overall Statistiche da paura sulla carta Con come potete vedere Un 87 di intercettazioni Che è tantissimo Aggressivissimo Forte di testa Perché ha tanto salto E tanta precisione nei colpi di testa Fortissime marcature Forza fisica bestiale Di 90 Tra l'altro è un giocatore Che costa così poco Perché è tipo da Costerà sui Non so 8000 crediti al massimo Ha dei valori di difesa Secondo me altissimi 87 è veramente altissimo Mi ha ricordato tantissimo Questo giocatore Un mix tra un Tiago Silva Per la velocità magari E un company Per i valori Di difese fisico Davvero un giocatore Con i controcazzi Penso che sia Il difensore migliore Della serie A In questo gioco Comunque andiamo Con la medaglia d'argento E troviamo un giocatore Che non mi sarei mai aspettato Di inserire Magari l'anno scorso Un paio di anni fa Stiamo parlando di Laurent Cossielni Un giocatore Che io ho sempre sottovalutato Ho provato Con troppa Sufficienza E superficialità Ma in realtà Questo giocatore È veramente fortissimo È migliore Di tutti gli altri Che ho Che ho provato Il migliore Secondo me Il miglior oro Difensore centrale oro Del gioco Senza considerare Come ho detto prima I vari Gesù Cristo Eccetera eccetera Perché è velocissimo Ed è fortissimo In difesa Ha anche un work rate Perfetto Quindi è sempre in difesa Sempre a difendere Come potete vedere Anche voi A sinistra Le sue statistiche Sono veramente Pazzesche L'unica cosa Negativa Di questo giocatore Come molti di voi Sapranno E anche molti di voi Avranno riscontrato È la sua forza fisica Se non sbaglio Di 73 Nella sua versione upgrade Perché si Ha ricevuto anche Un upgrade quest'anno La sua forza fisica È un po' bassina Rispetto agli standard Che un difensore centrale Dovrebbe avere Ma comunque Io devo dire Che si sente poco In game Lui è anche Molto alto come giocatore Quindi secondo me Si sente anche abbastanza poco Di testa le prende tutte Difensivamente Non lo sposti E comunque le intercetta tutte Quindi mi sento di dire Che questo è uno dei migliori Difensori del gioco Ma andiamo a parlare Del primo giocatore Di questa classifica Il mio difensore preferito Trattato tantissime volte quest'anno Stiamo parlando Di Marvel Win Il difensore centrale Bronzo Ebbene si Bronzo Della MLS Dei Colorado Rapids Penso che sia Per distacco Il miglior centrale Che io abbia mai provato Quest'anno Perché Ha tutto ciò che serve Per essere fantastico Cioè una velocità incredibile 93 Quindi riesce a tenere testa In velocità A qualsiasi Giocatore Di questo gioco Sappiamo che la velocità È la statistica Più importante E quindi Un difensore Con questa velocità Riesce a recuperare In velocità A qualsiasi giocatore Fortissimo quindi In velocità Vabbè tiro Passaggio Chi se ne frega Dreaming Chi se ne frega 61 di difesa Non è altissimo Non è neanche bassa Come statistica Quindi ce la teniamo di brutto 64 come potete vedere A sinistra Discivolata È anche un buon contrasto Se non sbaglio Questo giocatore ha E soprattutto E soprattutto Quello 83 di fisico Che rende questo giocatore Praticamente un macigno Non lo spostate Anche se comunque È molto basso Come giocatore È tipo 1.73 1.75 Non ricordo Però Grazie soprattutto Al suo salto Di 91 Anche di testa Non sbaglia Praticamente mai Quindi io penso Che questo sia Il miglior giocatore Che ho provato Quest'anno Testimonia il fatto Che quest'anno Come voi sapete L'ho usato Negli scot builder Almeno 50 volte Quindi raga Come sempre Il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Vi invito Come sempre A lasciare un bel like 400 mi piace Uscirà una nuova classifica Quella dei terzini Fatemi sapere Nei commenti Se vi è piaciuta Se siete d'accordo Con la mia classifica E soprattutto Qual è La vostra classifica Quali sono i giocatori I vostri difensori centrali Preferiti E magari iniziate Già a consigliarmi Qualche terzino Da trattare Sia sinistro Che destro Da trattare Nel prossimo video Iscrivetevi al mio canale Pagina facebook Twitter Instagram Tutti i link Come sempre Li trovate in descrizione E noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga